Mazzetta in tribunale resta dietro le sbarre con l'accusa di corruzione in atti giudiziari il funzionario del Palazzo di Giustizia di Vicenza, il 54enne bassanese Stefano Tito Maglio, che ieri è stato interrogato dal GIP Venditti. Il giurice per le indagini preliminari ha invece disposto alla scarcerazione con obbligo di firma per Antonio Nicastro, 55 anni, ingegnere di Marano Vicentino, docente in un istituto tecnico berico, incastrato mentre cedeva una mazzetta all'ex guardia linee. Tito Maglio ha ammesso di aver ricevuto denaro, ma non come tangente, bensì somma corrisposta in cambio di favori. E i favori devono essere stati tanti nel corso dei mesi, visto che i filmati visionati dai carabinieri e i finanzieri della procura riprendono numerosi copioni identici a quello che hanno portato all'arresto dei due e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre persone.